Urni aperte in 88 comuni della Campania, dei quali solo 18 con una popolazione superiore a 15.000 abitanti dove si potrebbe andare al ballottaggio del 25 giugno e di questi ben 12 rientrano nella provincia di Napoli. 794.000 sono gli elettori chiamati a scegliere sindaci e consigli comunali, 912 le sezioni. A vedere tra le numerose liste salta gli occhi la prevalenza di civiche, ma anche da questa competizione potrebbe venire fuori un dato politico interessante, soprattutto per la Campania, che vede un inedito scontro tra la Campania Libera con le truppe del PD insieme al governatore De Luca da una parte e il movimento DEMA del sindaco di Napoli, De Magistris. Dall'altra, l'esito di questa sfida potrebbe condizionare ulteriormente il rapporto tra i due e sicuramente influenzerà la carriera dell'ex PM lanciato ormai verso Palazzo Chigi. Le liste dei sostenitori di DEMA sono state presentate ad Arzano, Bacoli, Melito, Portici, Sant'Antimo e Torre Annunziata. Oltre che fuori regione. La città più popolosa al voto è Pozzuoli con poco più di 80.000 abitanti. Tra gli scontri più interessanti c'è quello di Bacoli, dove Giosi della Ragione ci riprova, ma stavolta sotto il cappello dell'esordiente DEMA. E se la vedrà non solo con il tradizionale PD, ma anche con il grillino De Marco. Uno dei pochi grillini candidati a sindaco, in una competizione che si fa notare anche per la quasi totale assenza di candidate donne. Unica eccezione a Cerra, dove la sfida è tra la Piddina Montesarchio e la 5 Stelle Auriemma. Anche i 5 Stelle hanno candidati un po' ovunque. Il tour elettorale di chiusura però stavolta non è stato affidato a Luigi Di Maio, ma a Roberto Fico, che si è visto in Irpinia, ad Atripalda e Solofra, le due cittadine più popolose e politicamente più indicative del territorio, dove i grillini corrono per la prima volta da soli. Anche lo scenario salernitano potrebbe riservare qualche sorpresa, nonostante i feudi deluchiani, Cirielli e Carfagna, nel centro-destra, si sono spesi molto a Mercato San Severino, così come a Nocera Inferiore. Forza Italia, alleati tuttavia, aspetteranno soprattutto i risultati di Sant'Antimo, Regno dei Cesaro, in un momento difficile, segnato da brutte vicende giudiziarie. Il clima è teso, carabinieri ai seggi e c'è l'ombra lunga dei clan che lambisce l'intera provincia a nord di Napoli, con Acerra, Arzano, Somma Vesuviana, attenzionate dalla Commissione parlamentare antimafia, insieme a Torre Annunziata nell'area sud. Rischio di voto di scambio e patti affaristici hanno convinto la Prefettura a chiedere un'intensificazione dei controlli fino a chiusura dei seggi.